Scattare fotografie in estate è un problema? L'estate in teoria dovrebbe essere un ottimo momento per realizzare fotografie perché abbiamo tanta luce, le giornate sono più lunghe, abbiamo anche le vacanze in cui possiamo andare in giro un pochino di più, quindi qual è il problema? Ebbene ragazzi il problema di cui vi parlo oggi è la temperatura, perché di recente mi sono reso conto che in questa stagione, che io già amo poco, fare il mio lavoro diventa molto difficile se non in certi casi addirittura impossibile. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo appunto di fotografia a livello professionale, lo faccio da tanti anni, devo dirvi che mai come quest'anno mi sono trovato in difficoltà a lavorare in estate e questo non perché sono indolente, insofferente e detesto il caldo e non mi piace questa stagione, questo è tutto vero ma non è questo il motivo per cui mi sono trovato in difficoltà. Ne parliamo tra un attimo ma prima devo ricordare a tutti quelli che non sono iscritti al mio canale di farlo subito cliccando il bottone qui sotto, a voi non costa assolutamente nulla, date una grossa mano al canale però e oltretutto date una mano anche a voi stessi perché rimanete aggiornati sulle future uscite. Benissimo ma andiamo a capire perché fare foto e video in estate sta diventando, potrebbe diventare per molti un problema. Andiamo a mettere in ordine le motivazioni. La primissima motivazione che io personalmente ho riscontrato è il surriscaldamento della strumentazione. Io sto lavorando con delle macchine sia vecchie sia nuove ovviamente per le macchine vecchie questo vale un po' di meno. Le vecchie reflex non si surriscaldano così tanto perché il display rimane spento, perché sono effettivamente in funzione solo al momento dello scatto e quindi a meno che non stiamo facendo video accendendo la live view rimangono sostanzialmente inerti. Ma tutte le macchine nuove invece sono sempre accese. Per esempio anche la R7 che sto usando in questo momento nel momento in cui io la accendo è quella rimane accesa finché io non comincio a registrare. Sì dopo un po' va in stand by ma di fatto è accesa con il monitor acceso. Inoltre c'è un'altra motivazione. I file che vengono scritti dalle nostre macchine sono sempre più pesanti. Quindi una volta avevamo foto da 18 megapixel e video in full hd a 24 frame al secondo. Oggi abbiamo fotografie da 50 megapixel e video in 8k raw. Lo so che non tutti usiamo queste misure folli però esistono. È evidente che nel momento in cui scriviamo file più grossi è evidente ma non perché lo dico io perché basta toccare il dorso delle macchine ve ne rendete conto subito. Si scaldano molto più in fretta. Ecco che in questa stagione non è che si scaldano molto più in fretta. Si scaldano immediatamente. A me sta capitando di andare a fare delle produzioni video e mi è capitata una cosa che non mi era mai capitata prima. Abbiamo messo la strumentazione nel frigorifero. L'abbiamo messa nel frigorifero per raffreddarla perché si era surriscaldata e non si raffreddava più. Spenta, estratta la batteria eppure abbiamo detto cavolo è mezz'ora che è calda non si raffredda. Non l'abbiamo chiusa nel freezer perché altrimenti poteva rompersi. L'abbiamo messa nei pressi dell'anta del frigorifero così usciva un po' di freddo e si è raffreddata prima perché altrimenti avremmo dovuto aspettare probabilmente ore che si raffreddasse. Questo è un problema. È un grosso problema perché ci allunga tantissimo i tempi delle nostre produzioni. L'altro problema in cui possiamo incappare che probabilmente è il peggiore è quando lavoriamo sotto il sole. Ragazzi io non so se sia sempre stato così. Personalmente ho quasi sempre lavorato al chiuso e durante le ore non diurne perché non faccio matrimoni. Quindi lo chiedo anche a chi fa matrimoni dateci supporto su questo perché io questa cosa non la so così approfonditamente. Però io mi sto rendendo conto che la strumentazione fotografica se lasciata al sole tende a sciogliersi. A me è capitato, mi è capitato di vederlo su strumentazione di altri ed è successo anche a me su una piccola componente di una fotocamera. La fotocamera non abbandonata al sole per carità però in utilizzo al sole e mi è capitato dopo un po' di tempo di utilizzo al sole di rendermi conto che mi stava rimanendo sulle mani il nero della gomma delle guarnizioni e quindi la macchina si stava sciogliendo nelle mie mani. Per un utilizzo sotto un sole è sicuramente inclemente però capite che se la strumentazione mi si comincia a fondere, si fonde e mi rimane la plastica sulle mani per il troppo calore, al di là del fatto che dopo un po' va in blocco e non funziona più perché si surriscala, però non va bene. Questo significa che abbiamo una situazione secondo me anomala perché io non ricordo in passato una situazione di questo tipo, è una situazione di adesso proprio ed è dovuta secondo me a due fattori. Il primo di cui abbiamo già parlato è il fatto che le macchine scrivono file sempre più pesanti e questo comporta un surriscaldamento maggiore. Abbiamo visto adesso sulle recenti uscite di Canon che abbiamo delle ventole per il raffreddamento, addirittura un battery grip con una ventola supplementare per raffreddare la macchina perché comunque è un problema. Il fatto che producano così tanto calore è un problema perché ci bloccano il lavoro, ci impediscono di lavorare continuativamente, dobbiamo fermarci e aspettare che si raffreddino e questo ovviamente è un problema. L'altro problema, io non posso fare a meno di ricondurlo un po' a quello che è il famoso cambiamento climatico, ovvero non sto dicendo che moriremo tutti domani perché l'essere umano è la specie più adattabile sul pianeta Terra dopo i batteri e i topi. Quindi ce la caveremo, andrà tutto bene, non sto qui a fare allarmismi. Certo è che fa più caldo e certo è che la temperatura maggiore unita al surriscaldamento che è già presente nelle nostre macchine produce un effetto istantaneo. La macchina si surriscalda troppo, si surriscalda subito, va in blocco quasi subito e noi non riusciamo più a lavorare. E questo unito al fatto magari che abbiamo anche un'attività solare più intensa. Io adesso non sono uno scienziato però posso immaginare che tra buco nell'ozono, macchie solari eccetera, possiamo avere dei periodi in cui l'attività solare ci nuoce di più rispetto che in passato. E questo nuoce anche la nostra strumentazione. Io guardate senza esagerare vi dico che avevo la mano nera perché avevo tenuto la strumentazione e quando ho tolto la mano avevo il nero delle guarnizioni della fotocamera sulla mano. Quindi significa proprio che alcune componenti della macchina si stavano lique facendo. Come possiamo ovviare a questi problemi? Eh ragazzi come spesso accade in realtà non possiamo. Nel senso che possiamo scegliere meglio l'ora in cui lavorare. Possiamo evitare di lavorare nelle ore più calde. Quello secondo me è assolutamente da evitare. Se lo facciamo facciamolo al chiuso. Insomma è una questione anche di buon senso. A me purtroppo capita di dover fare delle riprese a mezzo gioco. Proprio oggi eh guardate oggi dopo aver girato queste riprese mi capiterà verso l'ora di pranzo di dover fare delle riprese a tra mezzogiorno e le due. Quindi proprio nell'ora peggiore mi capiterà. Lo sapete che cosa faccio? Come un deficiente vado lì con un ombrello che sembro una dama medievale. Vado lì con un ombrellino e faccio le mie riprese tenendo la strumentazione. Oltre a tenere a riparo me stesso perché mi becco un colpo di sole vado all'ospedale. Però tengo a riparo la strumentazione così allungo la durata della registrazione che sono in grado di fare. Se stessi sotto il sole vi assicuro che in venti secondi già comincerebbe a lampeggiarmi la spia del surrescaldamento. Invece io sto sotto l'ombrello mi tengo in ombra proteggo me stesso proteggo la strumentazione mi dura di più la registrazione. Sono cavolate. È un video forse un po' frivolo quello di oggi. Non vi sto veramente insegnando niente se non che potete andare in giro con l'ombrello anche in estate sotto il sole. Però secondo me è una tematica interessante perché è un problema che può essere capitato non solo a me ma anche a diversi altri. A questo punto vi chiedo fatemi sapere in un commento qui sotto se vi è capitata una cosa del genere. Se la sentite da me per la prima volta oppure se è un problema che conoscete. Fatemi sapere voi come risolvete. C'è anche chi mette il ghiaccio sulla fotocamera. Per carità ho visto gente portarsi dietro i cubetti e tenerli dietro la fotocamera per raffreddarla. È un sistema a cui francamente non sono molto affezionato però c'è anche questo. Fatemi sapere voi come la risolvete. Non lo so soffiate sul dorso. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche di iscrivervi così non vi perdete le risposte eventuali a vostre domande sotto forma di shorts verticali. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!